Musica Commozione e allo stesso tempo gioia, momenti indimenticabili per tutte le persone che hanno grimito la Basilica di Santa Croce per la processione della girata del Carlo dell'Immacolata. Il carro alle 14, completo in ogni sua parte, con su in alto l'Immacolata, tra il suono solenne dell'organo, lo scampanino delle campane e gli applausi del popolo, è stato portato alla navata destra e quella centrale, sulle spalle dei tanti fedeli. Di seguito le immagini con l'audio originale della Basilica. Via uno! Andate dietro! 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 Andate dietro!